Comincerò con quella solita storia che avete già tante volte sentito, mi immagino, che dice che uno attraversa un cantiere dove si stanno lavorando gli scalpellini e passa vicino a uno scalpellino e gli chiede cosa stai facendo e lui dice non vedi, sto picchiando questa pietra maledetta, dura, polverosa, che mi rovina la vita, che mi intasi i polmoni, cosa vuoi che faccia? Spezzo la pietra. Va avanti, trovo un altro e gli dice ma tu cosa stai facendo? Lavoro per portare a casa il pane per la mia famiglia. Ma avanti ancora e trovo quell'altro che picchia la pietra e dice tu cosa stai facendo? E non vedi, costruisco la cattedrale. Dunque quello che io voglio dire è che il realismo, cioè partire dalla realtà, è una parola molto affascinante. il pensiero parte dalla realtà, il pensiero legge la situazione e questo è una cosa che mi sembra saggia, soltanto che ecco io vorrei concludere insomma una serata così ricca, così intensa anche di analisi, di speranze, così appassionata, che si capisce che tutti quelli che hanno parlato ci mettono l'anima nella loro professione, nella loro responsabilità, che soffrono di vedere le cose che talvolta non vanno, che sono lieti di vedere delle cose che si realizzano. Ecco, io però vorrei chiudere questa serata dicendo anzitutto grazie per la serietà con cui gli interventi hanno preso in considerazione i pensieri che io ho desiderato comunicare a Sant'Ambrogio. Naturalmente io ho cercato di metterci dentro qualcosa di mio, di qualcosa di condiviso anche con i miei collaboratori, però ecco non sono così presuntuoso da dire che ho fatto chissà quale discorso, ecco più come è stato detto una provocazione, naturalmente autorizzati a pensare nella patria dell'illuminismo, è un po' appunto una provocazione, no? Però ecco a questo mi ringrazio molto della serietà con cui voi avete reagito a questa provocazione, impegnando il pensiero nella vostra responsabilità. Ecco, io vorrei concludere dicendo sì, ecco il pensiero, però ecco il pensiero che parte dalla realtà non è solo il pensiero che analizza, non è solo il pensiero che calcola, non è solo il pensiero che fa le somme del bene, del male, dice andiamo meglio, andiamo peggio. Tutti questi sono legittimamente pensieri e pensieri in modi legittimi e necessari di usare la ragione. Ecco, io vorrei concludere dicendo sì, ecco vi ringrazio e apprezzo, e stimo tutto quello che avete fatto, che avete detto e quello che c'è scritto. E mi sposo particolarmente quell'idea che il pensiero è anche sognare, il pensiero è anche poesia, il pensiero è anche lasciarsi prendere da una promessa. Ecco, la realtà non è l'appiattito collezione di dati, la realtà contiene tantissime cose, anche promesse, anche sogni, anche prospettive di futuro. Ecco, e noi, voi soprattutto, mi sembrate capaci di questo pensiero che anche sogna, che vede non solo la complicazione, tutte le cose che ci rendono stentato qualche volta il procedere o rendono complicato il rapporto tra istituzioni, persone, insomma, tutto questo è realtà. Però ecco, io direi, sogniamo anche di più, cioè in fondo probabilmente anche il cammino della nostra comunità, della nostra società, dei nostri comuni, della nostra realtà locale, sarebbe più lieto, più leggero se condividessimo una speranza, ecco, non solo il bisogno di un benessere, di dire ecco, sono soddisfatti le mie attese rispetto a quello che deve fare l'amministrazione comunale. Ecco, quindi io dico, non è che adesso io venga qui a raccontare delle favolette, ecco, so che il realismo è anche fare i conti con il cliente, con l'utente, con la persona, con lo studente, con il malato, secondo appunto delle responsabilità che avete. Però mi sembra che noi abbiamo anche capacità di leggerne la realtà quello slancio ideale, quella capacità di vedere le cose come una promessa contenuta, ecco, nel realismo che ci permette di dire, ma noi siamo contenti della lotta, della fatica, delle complicazioni che dobbiamo affrontare, ma siamo contenti non perché possiamo dimostrare ad avercela fatta, ma perché abbiamo un sogno, perché abbiamo un desiderio, perché abbiamo una convinzione di rispondere a una promessa. Ecco, non lo so come faremo, secondo me anche tante complicazioni che ci nervosiscono, che ci appesantiscono, forse potremmo risolverle con uno slancio che dice, ma creiamo un altro modo di fare le cose, ma inventiamo qualcosa, ma proviamo a cercare insieme una soluzione, anche il rapporto tra istituzioni e persone, ecco, non è un rapporto soltanto diretto, c'è anche tutta la mediazione del volontariato, delle associazioni, quello che è stato documentato qui da molti, e quindi questa idea che siamo insieme per un bene che è comune, dove il bene comune io lo definisco proprio quell'appartenenza a quel convivere solidale che è la visione più alta, io credo, del bene comune, ecco, a me sembra che abbiamo ricevuto una promessa e noi ci siamo messi in cammino per questo e non abbiamo l'idea che così a un certo punto arriviamo noi e si risolve tutto quello che i nostri padri non hanno risolto, faremo fatica anche noi, però il nostro cammino è lieto se abbiamo l'idea che stiamo costruendo una cattedrale, ecco, non solo il duro lavoro di spezzare la pietra e non solo neanche il bisogno di portare a casa il pane, ma anche qualcosa che ci insegna a guardare in alto, ecco, io vorrei dire, il pensiero, autorizzati a pensare, naturalmente è un'espressione che accoglie il pensiero in tutta la sua ricchezza e perciò io vorrei che, se è possibile, insomma, che voi con le gravi responsabilità che portate, però possiate dire che questa serata è stata interessante per la serietà con cui anche sono stati indagati alcuni settori della nostra vita, è stata interessante per vedere come anche amministratori, i gestori di responsabilità pubbliche si trovano a convergere, adesso non è che l'arcivescovo di suo sia per forza di cose incaricato di riunirci, però ci siamo riuniti questa volta anche per lui e quindi quest'idea di convergere su qualcosa che ci stimola, ecco, a me sembra questa serata è stata importante per me almeno per l'attenzione a tante cose che esistono, a tante fatiche, a tanti impegni, a tanti anche risultati che si ottengono, no? Quindi, però ecco, vorrei che ciascuno di voi possa andare a casa dicendo siamo autorizzati a un pensiero che sia anche lieto, che sia anche fiducioso, che sia anche, come del resto è stato detto, disponibile a sfidare una realtà anche pesante, complicata e faticosa, però con quell'idea di dire stiamo costruendo qualcosa di bello, stiamo preparando un mondo migliore per i nostri figli, per quelli che verranno dopo di noi, stiamo coltivando la possibilità che la vita sia migliore e a me pare che questo noi lo stiamo facendo, lo possiamo fare, andiamo un po' avanti, un po' indietro, qualche volta non è sempre così lineare ed esaltante neanche quello che facciamo, però ecco, stiamo costruendo una casa adatta per la gioia di quelli che vengono dopo di noi, perciò abbiamo pensato molto, perciò pensiamo realisticamente, perciò pensiamo con un pensiero che sia anche lieto, poetico, capace di simboli e di convergenze, capace di dire pensiamo a una festa, per dire come siamo contenti di essere cittadini di questo paese, protagonisti di questa storia, costruttori di questo futuro. Ecco, io non ho tanto da dire per riprendere i singoli interventi molto interessanti e ringrazio sentitamente Don Maurizio e tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione e anche l'esito così impegnativo di queste condivisioni, però ecco, da parte mia vorrei soltanto dire, noi stiamo costruendo una casa in cui quelli che vengono dopo di noi potranno trovarsi bene, ecco, perciò pensiamo un pensiero che sogna, ecco.